Dispersione scolastica, allarme del comune di Napoli che ha snocciolato i dati più rappresentativi del fenomeno. Sono circa 2000 gli allunni in fuga dai banchi tra periferia e centro storico. La fonte risale ad una piattaforma che registra le presenze degli allunni a scuola. L'allarme lanciato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dati in crescita anche perché stiamo monitorando il fenomeno con l'assessore Estriano. Le criticità in un lungo elenco di comuni e zone Ponticelli, Barra e San Giovanni con 392 segnalazioni, Secondigliano, San Pietro a Patirno e Miano con 359, Monte Calvario, San Lorenzo e Poggio Reale. Dati alti anche a Scampia, va meglio a Chiaia, San Ferdinando e al Vuomero a Renella. I dati del comune di Napoli riguardano gli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo, quindi scuole primarie, ex elementari, secondarie, inferiori, ex medie e superiori. Il contrasto alla dispersione scolastica passa per la qualificazione degli ambienti di apprendimento pensati come ambienti di crescita della persona. Grazie al lavoro sinergico tra il servizio tecnico scuole e le municipalità, il comune di Napoli è aggiudicatario di 28 interventi di edilizia scolastica per un finanziamento totale di 83.580.163 euro. Nel PNRR è previsto un intervento straordinario per ridurre i divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado nell'ambito della dispersione scolastica. Un altro progetto, infine, prevede interventi socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel mezzogiorno al sostegno del terzo settore.